Si chiama Patrick Peyoman, è un addetto della sicurezza in Olanda ed è un biohacker, così almeno si va a definire. Ha 37 anni di età, è un mio coetaneo, pensate che ha ben 32, ripeto, 32 chip sotto alla sua pelle. E addirittura che, sappiate che con uno di questi va a svolgere, va a tenere i pagamenti solo andando ad avvicinare la mano ad un lettore chiamato lettore contactless, quello che per capirci troviamo anche nei diversi negozi qui in Italia, nel nostro paese, dove per l'appunto basta andare ad avvicinare la carta ed ecco che il pagamento si verifica grazie alla lettura del chip sulla carta di pagamento, che può essere Mastercard, Visa e tanti altri. È una persona, insomma, io la definisco come speciale, particolare, no? Che ha, qui chiamiamolo questo, chiamiamolo potere, basta semplicemente avvicinare per l'appunto la pelle, no? Ed ecco che il pagamento viene ad essere eseguito. Incredibile ma vero, qualcuno potrebbe pensare, ah ma, questo uomo morirà presto, probabilmente avrà un tumore perché in qualche modo ha questi chip. No, nel senso che l'uomo sta bene, con l'uomo è di buona salute, buona forma fisica e non incontra problemi di questo tipo. Detto ciò, grazie a tutti utenti di YouTube, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate. Ciao a tutti da Narrato Italiano.